ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video dalla mia quarantena come sapete in germania si può ancora uscire quindi ne sto approfittando per fare qualche passeggiata anche per un po' tenermi attiva nel video di oggi vi porterò al fridwald non è molto lontano da munsingen e vi chiederete che cos'è il fridwald è sostanzialmente un cimitero in mezzo al bosco ad ogni albero corrisponde un morto sostanzialmente e penso che sia interessante anche per me la prima volta che vado in un cimitero in mezzo al bosco penso che sia interessante da vedere appunto un nuovo concetto che si discosta un po' dai nostri normali cimiteri mentre parlo state vedendo alcune immagini che ho registrato appunto arrivando fin qua e successivamente le immagini appunto di questo cimitero come potete vedere parte del percorso segue una strada principale ma c'è comunque la possibilità di camminare appunto su questa qui che è la pista ciclabile pedonale in modo da essere più sicuri da quello che ho capito ad ogni albero corrisponde un numero in base a questo numero ognuno può cercare l'albero sotto cui è sepolto il suo caro quindi tanto per capirci lungo questo sentierino qui ci sono i numeri dal 1132 al 1181 1 ammetto che effettivamente fa strano poter dire di essere in mezzo ad un cimitero quando in realtà nella mia testa sono in mezzo ad un bosco ma comunque sia e soprattutto c'è veramente un silenzio assurdo con soltanto il rumore del vento in mezzo alle fronde degli alberi che appunto fa un po di rumore di sottofondo sto comunque rientrando verso il paese quindi direi che vi lascio ad alcune delle riprese che farò in questo mio percorso di ritorno che ovviamente non è quello di andata e ci vediamo quando sarò tornata alla alla stazione per appunto i saluti finali bene ragazzi spero riusciate a sentirmi nonostante il vento ormai sono praticamente in paese quindi direi che spero che il video vi sia piaciuto nel caso lasciate un bel like e se non lo siete iscrivetevi al canale se avete già visto delle cose simili a questo fritzwald lasciatemi un commento qui sotto ditemi dove le avete viste e se sono paragonabili anche a questo cimitero un po particolare sempre qui sotto ma in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure noi ci vediamo al prossimo video non mi resta che salutarvi e dirvi have a nice life